ciao mitici bad north qui con voi facci lozzo consenti il riavvio consenti il riavvio penso proprio di sì ciao mitici bad north qui con voi facci lozzo consenti il riavvio consenti il riavvio penso proprio di sì tutorial possiamo anche farlo allora vediamo un attimo com'è questo gioco ragazzi eh bad north oh questa è la mia ok ok allora io farei uno qua ok le case ce n'è una sola che cosa succede adesso io non l'ho mai visto questo gioco arriva o arrivano tre tipi con la barchetta dove che arrivano arrivano qui davanti a per fortuna ho messo le truppe e le altre a però non potevo modificare quell'altro e solo uno me la fate modificare la morte che sbuda lì o e adesso quell'altro da dove arriva e di qua non c'è nessuno ondata finale quanti arrivano vediamo 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 va che va che va lordi dai ragazzi va dentro c'era ancora un altro lì vittoria flowers victory 12 muerte spero che siano loro e continua posso già potenziare qualcosa no vai al prossimo sarà questa allora chi era allora allora r1 io la metto qua r2 io la metto qui anzi r1 io la metterei proprio qua quindi io devo fare così eh è contrario è contrario è contrario ok adesso è giusto allora quando si ferma il tempo è un po' fermo eh non li facciamo neanche accendere dalla barchetta perché non hanno i come si dice i guardati a il tempo è un po' fermo ok muoverci o un dato finale 15 è qui e l'altro barchetto dove eccola qua dai dai raga forza prezionati ok spostiamo un po così riusciamo a vediamo i rossi arrivano quasi in contemporanea grandi 3 stelle 3 stelle 6 flowers victory no no chi comincia a livello questo l'ho fatto perfetto potenziamento posso 12 7 ok arciere abilità e oggetto l'oggetto si si comprerà penso si vuoi passare al prossimo turno vai ah quando passi al turno non si potrà più tornare indietro penso ok ooooh perfetto allora 1 rosso e giallo la manetta grandi qui c'è due casette eccoli allora vediamo un attimo di far venire un po tutti qua tanto non c'è non vedo altri eh grandi arcieri ci sono gli arcieri che loro è bello che non me ne ha fatto neanche uno ok grandi grandissimi ok allora giallo rosso e blu li mettiamo qua certo che c'erano una mira in mezzo respingi la marea guarda che ci sono tre case qua dai 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 vai arceri bravi un premio un premio a questi arcieri grandi da 3 stelle una e una e due 24 3 eccoci potenziamo allora l'oggetto non ce l'abbiamo l'abilità possiamo metterla però ok questa è piccolina io credo che dopo ci saranno dei bei casini man mano si sale raga credo che ci siano dei bei casini grandi arrivano parecchie però diciamo che dovevo mettere gli arcieri lì incominciavano già a massacrarli prima di arrivare grandi porca loca questi arcieri sono fantastici ok sono tutti qua sembra che arrivano barche da altre parti 4 perché ci sta perché è una mappa piccola e ne ho ammazzati 19 senza subire perdite ok c'è qualche potenziamento assolutamente sì ok ok allora porca quindi devo scegliere quale fare c'è qualche potenziamento assolutamente sì cazzo cazzo rola e gli arcieri sono arcieri per tutti però eh cazzo rola e gli arcieri sono stronzati tutti ok tac e vieni qua cazzo rola e gli arcieri cazzo rola e gli arcieri valori oioioi allora qui e facciamoli mandare di qua non vedo altre barche io cazzo rola e gli arcieri valori cazzo rola e gli arcieri 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 la partita cazzo rola e gli arcieri cazzo rola e gli arcieri cazzo rola e gli arcieri sono quattro casette, eccoli qua devo sempre stare attento un po', venite ragazzi arcieri ui 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 arcieri su ui no ui 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 allora, oggetto non ce l'abbiamo, qui per potenziare le frecce bisogna averne 12 però per avere ui 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 u ui 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 u Grazie. Grazie. E si, la va quella là. Allora, schieriamo. Porca loca! Allora, schieriamo. Allora, schieriamo. Questi amici vanno a rigenerare i nostri amici. Oh... Madonna, quante barche! Allora, schieriamo. Diciamo che più il livello è alto e più si va avanti, più secondo me sarà una bella sfida. Anello comandante? Incredibile. Allora, no, devo fare questi, quindi ne facciamo un'altra. Voglio migliorare proprio l'armata. Più che dargli anche agli altri la cosa speciale che non ho capito perché non me la faceva prima. Forse c'è da arrivare a un certo livello o qualcosa. Orca, orca, orca. Allora, vai! C'è da arrivare a un certo momento che arrivano tutti insieme, credo. Orca, orca, orca. Orca, 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 orca. Orca, orca. Orca, 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 orca. Oh, 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 oh! una data finale orda finale mi piacciono i giochi a orde è bello, è carino ragazzi rilassante orca loca dietro rilassante mia truppa massacrata oh solo tre potenziamenti allora visto che tu sei il capitano esattamente elite vediamo un attimo lo conosco già il gioco lo conosco già quindi arriveranno anche in contemporanea qua è proprio senza una bella legnata quando arriva la barca questo rapiccia quando sono nell'isola ok va bene quindi se sono magari distante o sono riusciti a passare come per dire adesso si deve ricaricare chiaramente se vuoi urca loca i navi sempre più grossi raga urca madonna ceri fantastici a 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 da 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 eccoli 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 corazzati e arcieri eh la pratica così a cavoli di buccia 16 monete posso potenziare l'amuleto vediamo l'attimo eh sì l'amuleto che cosa mi dà aumenta le a 16 le dimensioni massime delle truppe orca questo invece elite diventano è importante anche anche l'aumento delle truppe è importante è anche per quello probabilmente che sono bello tosse perché le truppe sono ci sono fantastici fatto bene fare gli arcieri sinceramente carceri fuoco 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 sparate sfrecciate grandissimi carceri dopo vi do un po di panino con la salamella e la birra grandi 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 ragazzi carceri fuoco carceri fuoco carceri forza grandi arcieri carceri fuoco fuoco si fa troppo ridere che non ce la fanno neanche arrivare vedi che sono già tutti morti ondata finale dai 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 una casetta qua non ci da nulla eh magari si può anche star sopra eh come arcieri non rischiamo neanche forza arcieri forza arcieri forza arcieri tutto sommato non è male eh però cinque non ce ne facciamo nulla sette aspetta un secondo però sette sette secondo me possiamo prendere il potenziamento per l'ultimo eh allora questo l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto questo questo sarà tosto ah o abbiamo anche altri no ci si uniranno noi bello ok no niente già già non avevo previsto che arrivavano arcieri fuoco fuoco arcieri fuoco arcieri 15 piove gli aceri fanno ucilecca fanno ucilecca stanno sono tutti arcieri qua eh voglio gli arcieri elite cosa è successo? l'hanno ammazzato quelli viola non ci credo allora l'hanno da proteggere no non mi piace che hanno ammazzato i viola allora li uso a protezione la rifatto questa qua la protezione del castello io sono più forti di quelli lì mi hanno massacrati e non vorrei che mi hanno massacrati e non vorrei che non Grazie a tutti. Allora, sì, a livello di tutto c'è tutto, però vorrei ricominciare il livello, sinceramente. Ehi, no, 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 ricominciamo il livello, no, 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 no. ok allora ragazzi assolutamente no a e a a i a a a a a a ai forza a Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Oh ok, mi ha dato una incornata. Adesso si. Adesso si. Allora, loro cosa hanno? Più forza? Io con 9 invece cosa posso fare? Allora, 10, 20 eh. Allora, con 10 invece miglioro loro che non è male, eh. Allora, non c'è. Far gli arcieri. Gli ho fatti arcieri, ragazzi. arriviamo a no rusher e ci vediamo al prossimo video perchè mi sto piacendo un botto ragazzi io ho due arcieri adesso diciamo che vabbè questi questi sono fortissimi vediamo se riverro arcieri ci siamo anche con loro ecco ecco qua mettiamo lì la prova non male non male come arcieri grandi ho fatto bene a scegliere due fancherie due arcieri sinceramente sempre più arcieri arrivano 3 4 5 e quelli che avevo non so se posso potenziare dai andiamo a fare l'ultima city ci si ok 3 potenziamenti più 8 8 8 no 10 però potrei mettergli l'abilità dai ultima city e poi ci vediamo nel prossimo video ragazzi dovrei in pratica non fare nulla nel senso star qui arrivano e in pratica No, no, no. Grafica usata bene. Grafica. Trovo volte che li massacrano prima di arrivare e non c'era nessuno. Grafica. 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 credo, va bene, ciao da Marco Dallansgames è tutto, questo gioco fichissimo ciao mitici, statemi bene e mi raccomando ci vediamo al prossimo video seguite il canale e dite ai vostri amici di seguirmi, ciao 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 ciao